In questo tutorial vediamo dei problemi sulla probabilità classica. Partiamo da questo primo esempio. Per un viaggio di lavoro di pochi giorni Anna ha portato con sé due paia di pantaloni, due camice, una bianca e una nera, e due magliette, una blu e una grigia, e due paia di scarpe, con e senza tacco. Tutto è perfettamente abbinabile, quindi se Anna sceglie a caso un pantalone e lo abbina a una maglietta o una camicia e ha un paio di scarpe, va benissimo. La mattina Anna sceglie a caso cosa indossare. Qual è la probabilità che indossi una camicia? Per risolvere questo problema non dobbiamo farci confondere dalla lunghezza del testo. La domanda è qual è la probabilità che indossi una camicia. Osserviamo che Anna ha portato con sé due camice e due magliette. Quindi in simboli posso scrivere che Anna ha due camice, C, C di camicia, e due magliette, M ed M di maglietta. Indicando con e l'evento indossare una camicia, la probabilità dell'evento e sarà uguale a casi favorevoli, in totale Anna ha due camice, fratto i casi possibili. Anna ha due camice e due magliette e quindi in totale i casi possibili sono quattro. Semplificando otteniamo una probabilità di un mezzo. Supponendo che le probabilità che nasca un maschio o una femmina siano uguali, calcola la probabilità che in una famiglia con tre figli si abbiano e rispondo alla prima domanda. Due maschi. Vado allora a determinare la probabilità che escano due maschi. Come prima cosa vado a determinare quanti sono i casi favorevoli. I casi favorevoli in totale sono tre. Nel primo caso abbiamo il primo figlio maschio, il secondo figlio maschio e la terza è una figlia femmina, oppure maschio femmina maschio, oppure femmina maschio maschio. E allora tre fratto. Vado ora a determinare quanti sono i casi possibili. Consideriamo le possibilità per il primo figlio, per il secondo figlio ed infine per il terzo figlio. Il primo figlio potrà essere maschio o femmina e quindi il sesso si può presentare in due modi. Il sesso del secondo figlio anche esso si può presentare in due modi, o maschio o femmina. E la stessa cosa vale per il sesso del terzo figlio. Moltiplicando tra di loro i modi possibili otteniamo 2 per 2, 4, per 2, 8. In totale vi sono 8 combinazioni possibili che corrispondono ai casi totali. E allora scrivo 3 fratto 8. Rispondo ora alla seconda domanda. Qual è la probabilità di avere 3 femmine? Come prima cosa vado a determinare quali sono i casi favorevoli. In questo caso si ha un unico caso favorevole, ossia il primo figlio è femmina, il secondo figlio è femmina e il terzo figlio è femmina. Quindi i casi favorevoli sono 1 fratto i casi possibili. I casi possibili sono 8 e quindi la probabilità di avere 3 femmine è pari a un ottavo. I quattro colori rosso, verde, giallo e blu sulla ruota girevole hanno come illustrato in figura la stessa probabilità di comparire a ogni giro. Supponiamo che la ruota venga fatta girare 4 volte. Qual è la probabilità che escano tutti e quattro i colori? Per questo problema dovrò andare a calcolare la probabilità che esca rosso, verde, giallo e blu. Come prima cosa vado a determinare quanti sono i casi favorevoli. Ricordo che lo scopo è ottenere i quattro colori diversi ma possono uscire anche in ordine diverso. Fisso l'attenzione sul primo giro di ruota. Lo scopo è ottenere quattro colori diversi. Nel primo giro di ruota può uscire o rosso o verde o giallo o blu e quindi ho quattro modi possibili. Supponiamo che nel primo giro di ruota sia uscito rosso. Allora per avere tutti i colori diversi ora posso lavorare con verde, giallo e blu. Questo vuol dire che per il secondo giro di ruota ho soltanto tre possibilità. Per quanto riguarda il terzo giro di ruota, supponendo che nel primo sia uscito rosso, nel secondo verde, al terzo giro di ruota può uscire o giallo o blu. Questo vuol dire che in totale ho due possibilità. supponiamo ad esempio che nel terzo giro di ruota sia uscito giallo e allora nel quarto giro di ruota ho soltanto una possibilità che esca blu e quindi scrivo per uno. Ovviamente nel primo giro di ruota sarebbe potuto uscire uno di questi quattro colori che comunque sarebbe stato bloccato e comunque nel secondo giro di ruota avrei avuto soltanto la possibilità di scegliere tra i tre colori rimasti e lo stesso ragionamento vale per il terzo e per il quarto giro di ruota. Moltiplicando tra di loro i modi possibili otteniamo 4 per 3, 12 per 2, 24. Questo vuol dire che i casi favorevoli sono 24 e adesso vado a determinare quanti sono i casi possibili. Nel primo giro di ruota può uscire o rosso, o verde o giallo o blu, quindi ho quattro possibilità. Nel secondo giro di ruota può sempre uscire o rosso, verde o giallo o blu, quindi sempre quattro possibilità e la stessa cosa vale per il terzo e per il quarto giro di ruota. 4 per 4 per 4 per 4 risulta essere pari a 256 e allora vuol dire che i casi possibili sono 256. Semplificando per 8 si ottiene una probabilità di 3 fratto 32. In un'urna ci sono 40 palline di colore giallo o rosso. La probabilità di estrarre una pallina rossa è di 0,55. Calcola e rispondo alla prima domanda, il numero delle palline rosse. Indico con E la probabilità di estrarre una pallina rossa e scrivo che P di E risulta essere uguale a 0,55. Lo scopo è determinare il numero di palline rosse. Indico con X il numero di palline rosse e allora applicando questa formula posso scrivere che P di E risulta essere uguale a casi favorevoli, ossia il numero di palline rosse e quindi scrivo X fratto i casi possibili. Sappiamo che in totale vi sono 40 palline. La probabilità di estrarre una pallina rossa è pari a 0,55 e allora scrivo uguale a 0,55. Ho così un'equazione che vada a risolvere. X fratto 40 uguale 0,55. Moltiplico tutte e due i membri per 40, in questo modo semplifico il coefficiente della X ed ottengo X uguale 0,55 per 40 è pari a 22 e allora vuol dire che vi sono 22 palline rosse. Vado ora a rispondere alla domanda 2. Devo calcolare la probabilità di estrarre una pallina gialla. Tenendo presente che 22 sono le palline rosse, allora le palline gialle che indico con G saranno pari a 40 meno 22 e si ottiene 18. Allora la probabilità di estrarre una pallina gialla sarà uguale a casi favorevoli, ossia 18, su casi possibili, ossia 40. Semplificando per 2 si ottiene 9,20. Posso scrivere questo numero in forma decimale e si ottiene una probabilità pari a 0,45. Vediamo quest'ultimo esempio. Una scatola contiene 60 palline, alcune sono bianche, alcune rosse e le rimanenti nere. Sapendo che la probabilità di estrarre una pallina nera vale 0,2, puoi affermare che e dobbiamo determinare qual è la risposta corretta. Indico con x il numero di palline nere presenti in questa scatola. Vado allora a scrivere che la probabilità di estrarre una pallina nera risulta essere uguale a casi favorevoli e i casi favorevoli corrispondono al numero di palline nere che ho indicato con x. Fratto i casi possibili. In totale le palline sono 60. La probabilità di estrarre una pallina nera risulta essere nota ed è pari a 0,2 e quindi scrivo uguale a 0,2. Ho così un'equazione che vado a risolvere. x fratto 60 uguale a 0,2. Moltiplico tutte e due membri per 60 in questo modo semplifico il coefficiente della x ed ottengo x uguale 0,2 per 60 è pari a 12. Questo vuol dire che le palline nere sono esattamente 12 e allora la risposta corretta risulta essere la d. E con questo termino il tutorial su problemi di probabilità classica. Grazie. Grazie. Grazie a tutti